uno prima azione con infostrada potete avere a dsl senza limiti telefonate a zero ma sono scordato un'altra una seconda azione con infostrada potrete avere a dsl senza fine senza fine ma che è la canzone a ritorno ancora una terza con infostrada potete avere a dsl senza limiti telefonate a zero con meno di 10 euro al mese ok buona chiama il 159 o vai su infostrada.it batti stocchetti e vai grazie